Credo che lo studio sia la cosa fondamentale per un cantante perché talvolta c'è un'idea che cantare sia facile. Tutti possiamo cantare, tutti. Io talvolta incontro persone che non hanno mai studiato musica, che non hanno mai fatto una lezione di canto e devo dire che hanno voci meravigliose. Però voce meravigliosa non vuol dire saper cantare, saper cantare vuol dire conoscere il proprio strumento, aver fatto tanta 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 pratica. E io faccio sempre un paragone, canto, sport. Per cantare bene bisogna esercitarsi giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, così come fa un atleta. Per cui lo studio è fondamentale perché un cantante deve conoscere il suo strumento, la sua sensibilità, oltre alle cose logistiche, quindi lo studio della musica, l'approfondimento. Insomma, un cantante soprattutto oggi ha bisogno di una cultura molto, molto vasta, un 360 gradi, assolutamente.